Ciao, sono Diego Fernando Lorenzi, sono brasiliano, ce l'ho 22 anni, sono un centrocampista alto, non posso fare pure esterno. Sono venuto da Lugano perché ce l'ho lo stesso pensiero della società di vincere, allora per questo andiamo d'accordo. Aspetto tutti i tifosi allo stadio e ci vediamo presto. Ciao, ciao!